scattini come fai e io penso che gli arriva la gamba io te la faccio qua dietro e dentro il palazzo almeno te ne vede nessuno ecco 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 noi ripendiamo e la vettura è una vecchia cosa è una fischia chiara ha scritto tipo questo è proprio un bastardo ma magari schiacca e poi hanno scritto una che nessuno conosce ma ancora sta chiedendo tranquillo ma sono tutti che ormai è nostro psicopatico ti giuro ma dove? tu quale foto? leggi tipo lei ha scritto una frase che è un bel murano perché leggi è un psicopatico e c'è uno che fa ma lascio qua tanto non si scopatico non si scopatico vabbè se mi mette la macchia stava pulissimo si riesca a pulire ecco 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 stava pulire la cacca la cacca abbiamo un nuovo pulitore di cacche che cazzo sta facendo? portaggio ecco